Per me è un piacere particolare perché suoniamo questa sera il mio nuovo disco che si chiama Puro Desiderio che è un disco che è molto importante per me perché segna una svolta perché dopo anni in cui non ho scritto e quindi questo disco si chiama Puro Desiderio ed è un disco in cui parlo molto di me stessa quindi è un disco meno epico degli altri in cui c'è più Teresa, ci sono più io, un po' meno la brigandessa anche se la brigandessa c'è sempre ed è un disco più di sentimento ed è anche un disco che insieme alla scrittura dei testi, alla mia scrittura dei testi e delle musiche nuove è accompagnato anche da una produzione completamente nuova in cui anche gli arrangiamenti, i suoni, le sonorità che sono state scelte per questo disco sono completamente innovative, molto contemporanee e questo a me interessa perché a me piace sempre con la mia musica e sarei con i miei nel mondo e nel momento che vivo, grazieci Siete tutti di Ravello? Chiama! Anche! Wow! Tutto il mondo converge in questo posto meraviglioso che è Ravello e ogni volta che vengo qui comunque mi commuovo perché insomma c'è... Guardate che cosa c'è dietro e guardate che cosa c'è, che cos'è il mare e il cielo e la montagna di questo luogo musica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti